Ben ritrovati, buon lunedì, buon Crypto Monday, come ogni settimana farò l'analisi sulle notizie più importanti della scorsa settimana e sul prezzo, quindi sui mercati. Vediamo un bel verde questa settimana, infatti negli ultimi 7 giorni BTC ha preso, qui ci dice su coin360.com, circa il 13%. Settimana scorsa c'era un piccolo bug, infatti il prezzo era un po' più basso rispetto alla media vista ad esempio su CoinMarketCap, quindi ci mostra questa percentuale un ritorno ancora più alto. In ogni caso il ritorno è stato altissimo perché la settimana ha portato in sé la notizia di PayPal e questo ovviamente ha rialzato tutto e ha reso il mercato molto molto bullish. Parlerò ovviamente di questo anche se ho analizzato anche la notizia durante la settimana scorsa con un video dedicato, ma è inevitabile parlare delle conseguenze di questa notizia e di tutto il resto. Ho poi diversi spunti quindi cercherò come sempre di andare alquanto veloce senza tralasciare nulla, ma le cose da dire sono come sempre tante. Non solo Bitcoin, anche se Bitcoin sale tanto di capitalizzazione, infatti qui su coin360.com ci dà una capitalizzazione con una dominance al 63.66%, su CoinMarketCap vediamo una dominance al 61.2%, questo dipende da quali tipi di mercato si va a considerare, quindi quante monete si considerano. Su CoinMarketCap.com abbiamo più di 7.500 monete. Che cosa vuol dire una capitalizzazione che si alza? Una dominance che si alza, che Bitcoin sta aumentando i valori, mentre invece le altcoin sono pressoché stabili o rialzano meno di Bitcoin. Questa è la sintesi. La market cap totale di tutto il settore si muove verso i 400 miliardi, sta tornando verso i 400 miliardi di dollari. Bitcoin ha superato i 13.000 dollari in pochissimo tempo. Ricordiamo che la resistenza forte era quella ai 12.000, avevamo visto nell'analisi tecnica della scorsa settimana. Quali sono le migliori monete di questa ultima settimana? Abbiamo Reserve Rights che fa un 58%, Quant con 42%, Filecoin che fa 27%. Ci sono stati dei problemi nella gestione dell'economia di questo protocollo, nonostante questo c'è stato un grande pump al lancio, un dump e di nuovo un pump a quanto pare. Comunque sia nel complesso settimanalmente ha fatto un 27%. Amplefort che sappiamo essere una moneta che comunque subisce dei rebase, in questa settimana è nel ciclo di rialzo sopra il dollaro. Un 24% comunque nella settimana. Litecoin 23%, Erron 22% per poi proseguire ovviamente anche Wrapped BTC che segue Bitcoin perché è un Bitcoin wrappato, quindi tokenizzato su blockchain Ethereum. Fa un 14% così come BTC stesso. Vedere un BTC che fa un 14% quindi tra le top gainers settimanali è sempre bello. Vuol dire che il mercato è in fase rialzista, essendo Bitcoin il 60% del mercato a livello di capitalizzazione. Le top losers di questa settimana sono ABBC Coin che era salita settimana prima, Edge Trade che fa almeno 17%, Uniswap che fa almeno 13%, UMA che fa almeno 12%, Kusama almeno 11%, Demida Stach che anche era cresciuto, CRO che abbiamo visto essere sceso parecchio dopo i cambiamenti che ci sono stati, adesso dopo essere sceso verso i 9 centesimi sembrerebbe appunto pian piano tornare verso i 10 centesimi, Block Stack, SushiSwap eccetera. In generale vediamo un trend dove tutti quegli asset che avevano avuto, tutte quelle monete, quei token che avevano avuto un boom legato alla DeFi soprattutto durante l'estate stanno un pochino ridimensionando le loro grandezze. In ogni caso questa settimana, siamo all'ultima settimana del mese quindi arriverà le migliori altcoin del mese di ottobre. Probabilmente arriverà sabato questo video qui dove ci sarà un'analisi specifica su questi argomenti. Bitcoin una settimana fa valeva 11.477 dollari, in una sola settimana ha fatto appunto più del 10% di rialzo, appunto il 14, settimana molto molto bullish. Vediamo la finestra temporale ad un mese, un mese fa il prezzo era 10.699 dollari quindi anche questo mese, quello di ottobre, diciamo fine settembre-ottobre è stato un mese molto molto importante per Bitcoin. Finestra temporale a tre mesi, il prezzo tre mesi fa era 9.880 dollari quindi sotto i 10.000 addirittura parliamo del 26 luglio, comunque una cifra alta se ricordiamo il periodo perché uscivamo da quella crisi di liquidità che aveva portato il prezzo addirittura sotto i 4.000 dollari in quel giovedì nero di marzo. Un anno fa Bitcoin valeva 9.396 dollari quindi chiunque abbia deciso di entrare in Bitcoin in questo anno, in questo ultimo anno, al momento è probabilmente in profitto e complimenti per aver scoperto Bitcoin. In più, questo sarà uno degli argomenti di questo Crypto Monday, in generale chiunque sia in Bitcoin al momento difficilmente è in perdita a meno che non abbia fatto delle operazioni assurde a livello di speculazione. L'hash rate è sempre molto positivo rispetto a settimana scorsa stiamo vedendo un calo ma settimana scorsa nel mio discorso avevo fatto vedere di come c'era stato l'all time high su l'hash rate quindi mai era stata più alta la potenza di calcolo nella rete Bitcoin. Come avviene spesso quando sale tanto poi si ridimensiona e abbiamo visto diverse volte nella sua storia avere avuto appunto un andamento che si alza, si riabbassa ma tendenzialmente va sempre ad aumentare anche perché aumentano e migliorano le tecnologie per appunto il mining. Passiamo ad un pizzico di analisi tecnica, questa volta il grafico è molto molto promettente e diverso dalle ultime settimane, infatti vediamo questa candela importantissima del 21 ottobre a seguito dell'annuncio di Paypal dell'adozione e quindi del lancio di servizi per compravendita e custodia di crypto. C'è stata questa risposta molto molto importante che ha portato in una sola giornata il prezzo addirittura già sopra i 13 mila dollari da un prezzo inferiore ai 12 mila quindi questi sono i classici spike forti potenti che Bitcoin ogni tanto fa quando ci sono queste notizie così importanti. Ovviamente è stata cavalcata da chi voleva in questa fase portare dell'ottimismo sul mercato, ottimismo che è arrivato ed è stato supportato da tante altre notizie, tante altre dichiarazioni soprattutto abbiamo visto di come gli istituzionali stiano esponendo in modo positivo. Vi rimando ancora al video che ho fatto settimana scorsa per analizzare quello che ci ha detto ancora una volta Paul Tudor Jones, oggi invece parlerò di quello che ci dice anche JP Morgan che qualche anno fa solo nel 2017 con Jamie Naimon diceva che Bitcoin era una truffa e oggi vede un investimento dal potenziale considerevole, lo vediamo tra un attimo. Comunque l'analisi tecnica è stata rotta questa resistenza a 12 mila molto importante a lungo, ho detto di come questa resistenza sarebbe stata appunto fondamentale e oltre a romperla avremmo dovuto vedere anche un supporto che questa diventa poi un supporto. Ancora non è stata testata verso il basso perché si è andati solo verso l'alto e addirittura si è rotto subito i 13 mila. La prossima resistenza verso l'alto è quella storica perché ritorniamo al 25 giugno 2019 e addirittura ancora più indietro a gennaio 2018 per vedere questa resistenza dei 13 mila e 800 dollari. Dopo di questa non ci sono reali resistenze verso l'all time I. Alcuni analisti dicono che questa resistenza ce la porteremo per tutto il 2020, quindi per tutto questo finale di anno e in caso venga poi superata rotta si potrebbero vedere rialzi molto molto importanti e questo potrebbe avvenire ad inizi 2021. Questo è quello che riportano gli analisti. Ma nella realtà di fatti nessuno sa veramente come potrà evolvere questo mercato, ci sono tantissime variabili non solo del mercato cripto ma anche esterne soprattutto. L'andamento delle borse in generale, come andranno a finire le elezioni americane che in realtà non cambierà molto da chi vincerà queste elezioni ma le reazioni che saranno a seguito in generale sia con Biden che con Trump. E poi se magari arriverà anche una soluzione alla pandemia, se arriverà una soluzione a questo contagio che adesso sta avvenendo la seconda ondata e quindi gravi difficoltà economiche per tutti i paesi. Quindi se dovesse arrivare una soluzione, ad esempio un vaccino, questo potrebbe portare un bel po' di ottimismo su tutti i mercati e un mercato in questa fase come quello del cripto, come quello di Bitcoin potrebbe prendere uno slancio davvero davvero importante. Quindi ci sono delle situazioni da osservare. Sempre dietro l'angolo un'eventuale crisi di liquidità, una nuova paura e quindi eventuali nuovi lockdown eccetera. E quindi anche quello è sempre da tenere in considerazione e si potrebbe rivedere nuovamente un ribasso. Appunto, adesso andiamo a vedere quello che ne pensano anche gli analisti, ci dovremmo sempre aspettare un eventuale drop del prezzo perché non è che salirà per sempre. Bitcoin non è così ma nessun asset funziona così, niente sale e basta. E quando si è salito tanto ci dobbiamo sempre aspettare un minimo di correzione, questo è naturale e anche salutare per qualsiasi mercato. In ogni caso molto molto positivo vedere questo 13.174 perché il prezzo si porta in modo consistente sopra i 13.000 e non solo, chiude la settimana sopra i 13.000. Infatti se metto questa analisi in settimanale, vediamo che è stata chiusa una bella candela settimanale con il prezzo sopra i 13.000. E attenzione perché questa è una cosa molto molto rara. Infatti questa è la seconda settimana più alta a livello di prezzo chiusa dal 2018. La precedente più alta era ad inizio 2018 a seguito della grande bolla, a seguito del grande all time high, quello dei 20.000 arrivato a dicembre del 2017. Appunto gli analisti ci dicono che il prezzo potrebbe andare verticale, potrebbe salire veramente tanto a inizio 2021. Questo perché? Perché le banche potrebbero seguire quello che è stato ormai annunciato da PayPal con un'adozione di Bitcoin. Attenzione a questo aspetto. Questa è in generale la sesta settimana migliore per Bitcoin di tutta la sua storia. Ci potrebbe essere un retest di resistenze che abbiamo visto in passato, quindi i 13.800 ad esempio. Se dovessero essere rotte da questo momento che è andato a crescere appunto questa fase bullish, potremmo vedere anche un rally fino ai 17.000 a inizio del prossimo anno. Cifre molto interessanti. E a quel punto dubiterei di chi appunto parla ancora di bear market. Ma dobbiamo ancora vederlo. Queste cifre sono ancora da vedere. E appunto poi ci potrebbe essere un recovery dal punto di vista dei mercati se dovessero arrivare notizie sia dal punto di vista di nuovi stimoli sia dal punto di vista magari di una soluzione a questa epidemia come potrebbe essere la scoperta di un vaccino come vi ho appena accennato. I fondamentali sono molto forti, abbiamo visto di come la shrate abbia raggiunto il suo all time high. C'è Plan B che è molto molto bullish e appunto anche lui ci parla di una crescita verticale nel 2021. Ossia ci va proprio a dire non abbiamo ancora visto nulla. Non siamo ancora partiti, non ha ancora iniziato nulla. Siamo solo alla prefase di un eventuale bull run. Però finché parla Plan B, finché parla Max Keiser o Michael Novogratz sono molti che ormai abbiamo imparato a sentire che sono sempre stati bullish negli ultimi anni anche quando le cose andavano molto male. Ci sono dei personaggi esterni a questo mondo che stanno strizzando l'occhiolino e ormai si espongono apertamente. Una volta lo facevano magari in modo velato adesso sono dichiarati. Guardiamo ad esempio David Marcus. David Marcus che ci va a twittare. Sono molto eccitato dal fatto che servizi finanziari mainstream e player di questo tipo stanno entrando, stanno prendendo, stanno salendo sulla carrozza di bitcoin. Molte banche adesso stanno comprando bitcoin e Stablecoin ha supporto. Dopo che questa settimana è arrivato l'annuncio di Paypal. Stiamo girando l'angolo. David Marcus è braccio destro di Mark Zuckerberg ed è stato uno dei leader praticamente di Facebook, adesso a capo del progetto Libra. Ho analizzato spesso questo discorso. È stato prima a capo del settore di Messenger, l'applicazione che tutti utilizziamo quando scambiamo e chattiamo su Facebook. Bene, questo signore qui adesso gestisce il progetto Libra e ci scrive queste cose qui. Molto bullish, tra l'altro particolare perché vede positivo appunto questo, diciamo, se vogliamo tradimento di Paypal, perché Paypal faceva parte della cordata Libra, ne esce e adesso porta avanti, diciamo, questo suo progetto da sola. Io ho delle mie idee che ho già espresso. Paypal probabilmente, oltre a fare questo e acquisire determinate servizi, abbiamo visto delle voci su BitGo, secondo me si sta preparando anche a rilasciare una sua Stablecoin. Non mi stupirei per niente se nel 2021 arrivasse appunto un progetto di Stablecoin marchiato Paypal. Di cosa stiamo parlando? Questa è stata la grande notizia, appunto vi rimando comunque ai video della scorsa settimana, li trovate sul mio canale. Ma in generale, Paypal annuncia che inizierà ad accettare i pagamenti in cripto nel 2021. Quale monete? Innanzitutto, questo è un aspetto importante, accetterà ed includerà Bitcoin, ovviamente BTC, Ethereum, quindi Ether, Bitcoin Cash, BCH e Litecoin, LTC. Queste sono le monete che partiranno, questo è proprio quello che dichiara la società. È stato possibile grazie a una partnership con Paxos? Perché è stato possibile? Perché altrimenti avrebbe dovuto fare tutto un processo per richiedere eventuali licenze. Facendo una partnership con chi la licenza l'ha già ottenuta e ci ha combattuto anni per averla, si ritrovano praticamente già la licenza in tasca. E questa è una licenza fornita dal New York State Department of Financial Services, ossia proprio uno dei dipartimenti che la riconoscono e regolamentata quindi negli Stati Uniti. Una volta che si è regolamentata negli Stati Uniti, praticamente si può fare quasi qualsiasi cosa si voglia ad oggi. Non solo, non solo compravendita e custodia, tutti i grandi commercianti potranno accettare pagamenti in cripto grazie a Paypal. Immaginate che onda d'urto arriverà a livello di adozione su questo settore. Io adesso non è che voglio lanciare una FOMO, lo so che spesso mi scrivete i tuoi video, ogni tanto, ogni video ci manda in FOMO. Però ragazzi, leggere queste notizie e non vedere dove si sta andando, cioè io non so come si faccia, io stesso mi trattengo a malapena, ecco. Tra l'altro JP Morgan, proprio dopo la notizia, diventa super bullish su Bitcoin. JP Morgan's Global Market Strategy, la divisione che si occupa appunto delle strategie di mercato, discute sulle ragioni per cui Bitcoin potrebbe essere potenzialmente molto, molto bullish, molto rialzista sul lungo termine. Ci parla di come l'investimento su Bitcoin, parla proprio di investimento, è molto considerevole nel suo potenziale. Questo arriva proprio dopo le dichiarazioni di Paypal, poi troviamo tanti tweet di questo tipo che ci ricordano giustamente di come Bitcoin era stato etichettato come frode, come truffa, solo nel 2017. Io lo ricordo benissimo, c'era proprio l'enfasi crescente di Bitcoin, Bitcoin nel settembre 2017, adesso vado a memoria. Stava andando verso i 5.000 dollari dopo una crescita pazzesca perché inizio anno valeva 1.000, arrivano le dichiarazioni di Jamie Dimon che diceva appunto che Bitcoin era una truffa, Bitcoin crolla nuovamente, mi sembra fece un meno 30, un meno 40%. Da 5.000 tornò di nuovo a 4.000, 3.000 per poi rialzarsi, sappiamo tutti come è andato a finire il fine anno verso i 20.000 dollari. Ma adesso la stessa banca ci dice il potenziale a lungo termine a rialzo di Bitcoin è considerevole se andrà a competere con l'oro, con il mercato dell'oro come alternativa e non solo come alternativa all'oro ma anche come currency perché ha questo doppio potenzialità, non solo è una riserva di valore ma ha anche una sorta di currency. E visto che i millennial, più passa il tempo, più i millennials diventeranno potenziali investitori perché comunque c'è uno shifting proprio demografico, noi andremo a vedere un passaggio da quelli che ad oggi sono gli investitori, i baby boomers principalmente, a quelli che saranno appunto i millennials. E per un millennial sarà molto più probabile un interesse verso un asset digitale, puramente digitale come Bitcoin rispetto a un asset come l'oro, per tantissimi punti di vista. Sono cresciuti i millennials con lo smartphone in mano, quindi dobbiamo considerare questi aspetti che sono di natura fondamentale e questo lo sanno bene anche le banche, è una delle banche più grandi del mondo. Prima però lui ci dice, ci sono tre maggiori ragioni per cui Bitcoin potrebbe avere veramente un mercato molto molto bullish sul lungo termine. La prima è che potrebbe crescere ancora di 10 volte prima di andare a fare matching con il settore dell'oro, quindi Bitcoin prima di essere paragonato al mercato che è ad oggi l'oro a livello di investimento dovrebbe crescere ancora altre 10 volte, quindi c'è un margine di crescita di 10 volte, 10 per. Se andiamo a fare i conti, arriverebbe a un prezzo di Bitcoin che ad oggi potrebbe arrivare tranquillamente più di 100.000 dollari per singolo Bitcoin. Secondo, le cryptocurrency hanno un alto utilizzo, questo ce lo dice JP Morgan che tre anni fa diceva che era una truffa. Terzo, Bitcoin potrebbe essere molto di appeal, quindi attirare molto i millennials sul lungo termine, quello che vi ho appena detto. Considerando che poi non ci sono ancora ETF su Bitcoin, immaginiamo quello che potrà essere quando questo settore abbraccerà ancora di più, quello della finanza tradizionale, quando il settore finanza tradizionale abbraccerà ancora di più questo nuovo settore tecnologico. Le cryptocurrencies derivano il loro valore non solo perché servono come store of wealth, quindi come riserva di ricchezza, ma anche perché hanno un loro utilizzo come mezzo di pagamento. Più persone, più agenti diciamo accettano cryptocurrency come pagamento in futuro e maggiore sarà il loro utilizzo e quindi il loro valore. Parole della banca JP Morgan e questo arriva proprio dopo che PayPal mette sul piatto in modo concreto un'adozione di questo servizio. Settimana davvero davvero bullish, è difficile non esserlo, però cerchiamo di guardare qualche aspetto che sul breve termine potrebbe portare il prezzo a ribasso perché è giusto essere oggettivi. Allora per Halloween arriveranno delle scadenze importanti soprattutto a livello di futures e di opzioni. Il 30 ottobre, quindi l'ultimo venerdì del mese di ottobre, ci saranno delle scadenze per un valore di 750 milioni di dollari in opzioni su Bitcoin. Quando arrivano queste scadenze molto pesanti solitamente si stimola molto la volatilità sul mercato e non solo, come ogni venerdì del mese, come ultimo venerdì del mese coinciderà anche con la scadenza dei futures e che anche i futures sul CME hanno accumulato bei volumi. Quindi attenzione a questa settimana perché potrebbe portare un'alta volatilità. Vi lascio sempre i riferimenti qui in descrizione, questi articoli che vi faccio vedere li trovate sempre in descrizione video per approfondire. Cosa voglio dire con questo? Siccome in realtà nessuno sa adesso il prezzo quanto si potrà muovere, ma dobbiamo considerare che la settimana scorsa ha avuto una volatilità verso il rialzo molto importante. Vi prego non ancoriamoci a questo prezzo perché Bitcoin non potrà reggere i 13 mila dollari per sempre, probabilmente ci sarà un retest verso i 12 mila dollari. C'è anche un'alta probabilità che questo non succeda, che magari Bitcoin vada direttamente a 13 mila e 8 sfondandolo e poi andando verso il finale dell'anno a 20 mila, ma i ritracciamenti sono sempre da aspettarsi. Quindi non andiamo nel panico se il prezzo dovesse scendere nuovamente verso i 12 mila e anche più in basso. C'è un analista qui di Cointelegraph che ci dice che 11 mila e 5 è un importante livello da tenere sott'occhio. Quindi c'è alta volatilità, questa settimana la vedremo per forza di cose perché arrivano queste scadenze e noi rimaniamo da osservatori. Se si è adottata la mentalità dell'holder non ce ne può fregare di meno questo proprio schiettamente perché un Bitcoin vale un Bitcoin, c'è la volatilità temporanea sul prezzo che magari cambia da settimana a settimana, ma appena allarghiamo la finestra temporale, appena andiamo a fare zoom out, perciò faccio le finestre temporali ogni lunedì quando iniziamo l'analisi, vediamo che tendenzialmente Bitcoin è sempre cresciuto nel suo equivalente in dollari. Adesso voglio parlarvi di qualche progetto che sto osservando, più di qualche persona mi ha chiesto in passato perché non ci parli dei progetti che osservi prima che inizi ad investirci a farlo, voglio fare così anche se mi espongo più a rischio perché ovviamente è una cosa più rischiosa. Ovviamente io non sono responsabile per gli investimenti che qualcuno di voi andrà a fare, quindi ovviamente io introduco un certo tipo di concetto, un certo tipo di progetto, poi ognuno fa le sue valutazioni, ossia siamo responsabili, per piacere cerchiamo di esserlo, insomma non è questo un canale dove si vogliono fare dei consigli finanziari, quindi introdurrò questi progetti che io sto osservando e probabilmente andrò a utilizzare, barra, cioè andrò ad investire. Uno di questi è H-CAPTCHA che è un concetto molto molto interessante perché vuole trovare un'alternativa al re-CAPTCHA che viene utilizzato ad esempio da Google, quello dove ci fanno vedere quelle immaginine e ci chiedono di dimostrare che non siamo dei bot, dei robot. Questi sistemi sono stati integrati su quasi tutte le piattaforme, sui siti, proprio per evitare che ci siano spam, che ci siano attacchi di un certo tipo al sito, che la persona che utilizza il sito e magari si registra non è un'automa, però finora il più diffuso appunto viene dai grandi produttori, in primis Facebook. Questa azienda qui che è a base a San Francisco, e già mi piace parecchio il discorso perché quando nasce una società a San Francisco in California, qui parliamo di Silicon Valley, molto probabilmente ha alle spalle qualche bel investitore di un certo livello per arrivare a questo punto qui. Appunto, H-CAPTCHA, questo è il suo sito, ferma più bot e inizia a proteggere la privacy degli utenti. Infatti, quando noi andiamo a riconoscere quelle immagini e andiamo a fare una sorta di selezione, noi andiamo a distruire una macchina che impara, praticamente un'intelligenza artificiale che ha un machine learning alle spalle. E stiamo dando questo tipo di conoscenza praticamente in modo gratuito. Inoltre stiamo anche esponendo quelli che sono i nostri dati, perché quando quelle macchine vanno a salvare determinate cose, sanno che il nostro account appunto è un account umano, tante altre informazioni che vengono derivate da questa operazione qui. A cosa serve H-CAPTCHA? Serve innanzitutto per togliere questo discorso, quindi è incentrato sulla privacy. In generale le reti pubblicitarie vedono i tuoi visitatori come il prodotto. Questo dal punto di vista, se visto da chi ha un sito web, quindi chi integra questo H-CAPTCHA ha probabilmente un sito web o un servizio. Per H-CAPTCHA il prodotto è il lavoro che forniscono, quindi chiunque riconosca le immagini fa un lavoro e lo fa per noi in modo gratuito per accedere al servizio. Quindi non ci interessa chi siano i tuoi utenti, solo quanto è probabile che siano dannosi. Ossia non importa chi sono, ma se non sono dei bot dannosi, questo è quello che deve rimanere. Quindi la sicurezza prima di tutto e c'è una migliore esperienza per l'utente. I sistemi di riconoscimento sono simili a quelli che già conosciamo, qui c'è un esempio. Ad esempio, come verrà integrato questo? Si può scrivere il proprio nome per dimostrare che non siamo dei bot. C'è una domanda, ad esempio quale vegetale preferiamo. E poi non sono un essere umano, classico. E da qui si aprirà la solita schermata, ci dice fai clic su ciascuna delle immagini contenente un'auto. Qui selezioniamo le auto. Facendo questa selezione noi stiamo istruendo un'intelligenza artificiale. Perché noi sappiamo riconoscere facilmente queste immagini, una macchina non lo sa fare. E ogni volta che noi diamo queste informazioni la macchina impara sempre di più. E stiamo dando praticamente un lavoro, stiamo facendo un lavoro. Adesso, qui sono un essere umano, lo ha verificato. Questo lavoro che abbiamo fatto non viene mai ripagato da nessuno. Con questo sistema invece c'è un modo per ripagare questo lavoro. E integrandolo, qui c'è tutta la guida con il docs per come integrare. Praticamente vediamo com'è sviluppato. C'è un javascript che viene integrato. Ci sono degli script da inserire nella pagina per avere questo riconoscimento. Che può essere sostituito in tempo zero a quello di Google ad esempio. Può essere controllato perché c'è tutto il codice insomma controllabile. Con un inserimento di questo tipo, di questo servizio qui. Queste sono le caratteristiche. E si ha anche un sistema di reward. Infatti è alimentato dal protocollo human. Questo protocollo è un protocollo decentralizzato, aperto per la revisione umana che viene eseguito su blockchain ethereum. I siti web quindi guadagnano token umani HMT. Quindi quando si inserisce questo tipo di servizio, chi fa questo lavoro, praticamente il sito viene remunerato con HMT. Ogni volta che gli utenti utilizzano widget Hcaptcha sul proprio sito. E le aziende di machine learning pagano questi token human per etichettare i propri dati. Molto molto interessante. Coprirò questo discorso ancora e lo seguirò nel tempo. Secondo me è una delle idee più interessanti che arriva, che unisce il discorso machine learning a intelligenza artificiale, un protocollo già utilizzabile, un sistema che già si può integrare, quindi che già funziona, al discorso tokenizzazione e reward con la protezione dei dati. Quindi attenzione a Hcaptcha, molto molto interessante. Tra l'altro è arrivata notizia qualche giorno fa, l'ho rituitata, che il token human, quindi questo HMT, verrà listato su Bitfinex. Seguitemi su Twitter per avere aggiornamenti più frequenti, perché ovviamente facendoli nel Crypto Monday non riesco ad inserire sempre tutto quello che seguo. Su Twitter cerco di aggiornare più frequentemente su queste cose. In modo molto veloce, perché già mi sto dilungando tanto, voglio parlare anche di Oasis. Ho già introdotto anche questo in passato, che cos'è Oasis. Oasis Network vorrebbe appunto portare un lato di privacy e scalabilità in DeFi, ossia proteggere quelli che sono i dati personali di chiunque poi vada ad operare in DeFi. Come detto, già ho anticipato di questo discorso. Adesso quello di cui voglio parlare oggi è che su CoinList si può registrare e si può partecipare allo staking e al farming di ROSE. ROSE è un token che verrà appunto utilizzato su questo protocollo e con il quale si può fare sia farming, quindi guadagnarne, depositando delle stablecoin, ossia si vanno a depositare USDC o USDT e si farmano ROSE. E allo stesso tempo con i ROSE che si sono farmati si può fare il cultivate, quindi coltivare queste ROSE, questi ROSE, e metterli in staking per avere un ulteriore guadagno. È tutto spiegato qui, vi lascio i riferimenti direttamente in descrizione, non posso andare troppo in dettaglio, volevo solo nominare quest'altra cosa. Io penso che lo testerò, quindi lo lascio giusto per farvi sapere che proverò questa cosa qui. Osis Foundation, tutti i dettagli sono in descrizione, in realtà è molto semplice. Un'altra cosa che volevo nominare è Unstoppable Domains. Infatti, sto collaborando con Unstoppable Domains, mi hanno riconosciuto, avendo bloccato il mio dominio tizianotridico.crypto, me lo hanno riconosciuto e ho fatto il claim qualche giorno fa. Adesso è arrivata la novità che si può praticamente verificare il proprio dominio con Twitter. Per chi non conoscesse Unstoppable Domains, praticamente sono dei domini, domini su internet, quindi tizianotridico.crypto, coinsquare.crypto invece che tizianotridico.com, per navigare sui quali poter costruire un sito, ma legati poi agli indirizzi su blockchain. Quindi è un token non fungibile a tutti gli effetti che ci va a dare la proprietà di quel dominio e al quale si possono legare degli indirizzi molto più facili da leggere lato umano. Quindi non c'è bisogno di condividere, ad esempio, il mio indirizzo Bitcoin, il mio indirizzo Ethereum, complicato, ma posso semplicemente dire a chi mi volesse pagare, guarda pagami su tizianotridico.crypto e poi a quel dominio io ho collegato il mio indirizzo e riceverò Ether, Bitcoin, si possono collegare tantissimi address. Oltre a questo, per andare a verificare che effettivamente l'indirizzo è il mio, posso collegare il mio Twitter, così da avere un handle che certifica la mia identità. Questo è stato fatto in collaborazione con Chainlink. Infatti c'è l'oracolo decentralizzato che ci va a certificare che quel Twitter account è praticamente di proprietà del dominio crypto. Quindi tizianotridico.crypto possiede il dominio su questo indirizzo Ethereum e questo è lo stesso possessore del account Twitter. Molto molto figo. Ho provato a fare questo processo anche perché mi hanno riconosciuto un credito per poterlo fare, perché alle prime persone che provavano questa cosa riconoscevano un credito che altrimenti va pagato, perché per fare questa operazione su Chainlink c'è un costo di circa 20 dollari, quindi circa un link e mezzo più o meno, un link e 6, un link e 7, dipende dal prezzo di Chainlink. Serve proprio per andare a fare l'operazione su, pagare praticamente i nodi della rete degli oracoli, insomma. Questo riconoscimento ho provato a farlo tramite il credito, ma avendo io il mio dominio su Ledger ho trovato delle difficoltà. Ho scritto già il supporto, sto cercando di portare avanti la cosa, altrimenti basta fare il processo qui tramite verifica, il tutto è guidato sul sito. Magari, mentre lo faccio, farò anche un tutorial, forse lo rilascio direttamente sul canale, se la cosa può interessare. Quindi fatemi sapere se questa cosa può interessare, magari avete il vostro dominio, volete collegarlo a vostro account Twitter, volete fare questo processo che è molto figo, potete appunto seguire o le istruzioni o in caso farò io un tutorial, quando riuscirò a farlo io stesso. Ci provo questi giorni ancora una volta. Tra l'altro se non avete ancora un dominio, ovviamente ho un mio link dal quale potete acquistare i domini, trovate direttamente il link in descrizione. E potete cercare sul sito Unstoppable Domains il vostro nome ad esempio o il dominio che volete comprare .crypto. Attenzione perché questi domini stanno pian piano andando a finire, quindi è un po' come la corsa ai domini.com degli anni 2000, a inizio del 2000. A proposito di crypto, mi collego anche a crypto.com che tra l'altro è partner di Unstoppable Domains, infatti se si pagano i domini su Unstoppable Domains con CRO si ha il 10% di Crypto Back, quindi in CRO direttamente. Volevo farvi vedere questo video perché mi è arrivata l'email proprio oggi, che praticamente chi ha livello private, quindi chi abbia già riservato la carta, a partire dall'Icy White oppure la Rose Gold Rose, insomma quella che richiedeva 100.000 CRO di blocco, ha accesso anche al Private Welcome Pack. Lo avevamo visto nella lista dei bonus e oggi arriva appunto questo video qui che volevo farvi vedere. Quindi tramite l'email, se l'avete ricevuta, se avete questo tipo di taglier, potete andare a lasciare i dettagli, probabilmente ci chiederanno la taglia della maglia, la taglia per questa specie di, non so, giacchetta della North Face e tutti gli altri gadget che ci manderanno con questo box. Sono sempre attenti a questa cosa, a cullarci un po' per i propri clienti più affezionati e quelli che hanno anche investito di più in questa azienda. Oltre a questa notizia voglio anche dirvi che, a seguito del riadattamento dei prezzi di CRO, quindi appunto dopo il cambio degli interessi che è passato dal 20% al 10% sullo staking, praticamente sul blocco dei token, il prezzo di CRO si è abbassato, lo abbiamo visto sul mercato e anche i taglier per ottenere determinate carte sono cambiati, sono stati riadattati. Ovviamente con il prezzo che scendeva a 9 centesimi per CRO, la carta Ruby Steel costava un'ottantina di euro, 90 dollari, che era veramente veramente poco. Questo è ancora così fino al 2 novembre, perché ad oggi costa veramente veramente poco. Fino al 2 novembre si può riservare la carta con 80 euro bloccati, bloccati neanche spesi e sia una carta che riconosce tutti i vari bonus, anche il cashback, insomma c'è Spotify, tutte le altre cose di cui già ho parlato, ad un prezzo veramente veramente vantaggioso. Difatti aumenterà al 2 novembre, per avere queste carte bisognerà bloccare questo nuovo quantitativo, quindi l'entry level diventerà 2.500 CRO, è anche normale che sia così. Queste carte hanno un costo per l'azienda. Provaliello di produzione sono carte belle, metalliche, fatta vedere più volte, vi rimando all'unboxing della carta. Inoltre, sempre al 1 novembre, al 2 novembre, vi ricordo che anche il referral andrà a dimezzare, quindi se si entra ora si riceverà un 50 dollari di bonus, questo fino al 1 novembre, poi questo bonus dimezzerà e diventerà 25 dollari. Quindi, se ancora non l'hai fatto e eri interessato a prendere la carta, questo è il momento migliore in assoluto, perché si costa praticamente la metà, meno della metà di quello che costerà il novembre e si ha il bonus che è il doppio. PS, è normale che succede questo, cioè ogni fase di lancio, di promozione, poi va ad esaurirsi. Non è detto, cioè una volta che si sono acquisiti i clienti, i clienti aumentano, diminuiscono quelli che sono gli interessi. E detto questo, che sto dicendo appunto per Crypto.com, dobbiamo aspettarci la stessa cosa su tutti gli altri servizi. Quando aumenteranno i clienti, ad esempio su Celsius, ad esempio su BlockFi, ad esempio su tutti questi tipi di servizi, le reward e gli interessi andranno a diminuire nel tempo. E ce lo dicono già da oggi, ci dicono che in ogni momento loro si prendono il diritto di abbassare gli interessi. Questo lo dice Celsius, lo dice BlockFi, lo dice adesso, non so, Nexo, tutti questi servizi qui. Come una volta succedeva ad esempio nelle banche. Le banche inizialmente sui depositi riconoscevano degli interessi, adesso non riconoscono più nulla. Ed è andato a diminuire negli anni. Ovviamente le cose cambiano anche in base al tipo di guadagno e al numero di clienti che le aziende, anche le banche private sono aziende, vanno ad accumulare. Quindi cerchiamo di usare sempre la testa, perché ve lo dico già da oggi, tutti questi interessi ad oggi sono stravantaggiosi, prima si entra e meglio è, ma poi vanno a diminuire nel tempo. Chiaro. Per concludere, non posso non ricordare la live di questa settimana, mercoledì ore 21.30. Quindi, mercoledì 28 ottobre, io e Filippo faremo un Ask Me Anything, quindi con tutte le domande e risposte live sul canale CoinSquare, parleremo di questa crescita di Bitcoin, delle notizie importanti che sono arrivate, degli istituzionali che stanno entrando, risponderemo a tutte le domande, interessi, cercheremo di analizzare quello che è una prospettiva anche di crescita sul prezzo, tutte le curiosità che avete. Insomma, ci vediamo mercoledì alle 21.30 su CoinSquare. Per il resto, per Cryptomand è tutto, ci vediamo lunedì prossimo, e oltre a questo cercherò di fare altri approfondimenti durante la settimana, magari anche altri tutorial su quello che servirà appunto rilasciare. Ho già qualcosa in mente. Ci vediamo presto.